26, 27 e 28 maggio, da venerdì a domenica, il Castello Arichi di Salerno si veste di tipico, si veste di enogastronomia di qualità, di turismo, insomma indossa una maglia veramente da campione nella veste di una delle migliori location della provincia di Salerno e possiamo dire della regione Campania ad ospitare una delle migliori manifestazioni a sfondo turistico, culturale, spettacolistico e enogastronomico della regione Campania, parliamo chiaramente di Birra in Brocca, la seconda edizione che è stata tra le tante manifestazioni italiane selezionata e particolarmente apprezzata dal circuito Autostrade d'Italia, nel programma dell'Italia, un paese meraviglioso individuando il Castello Arichi e la manifestazione Birra in Brocca organizzata dalla società di gestione del Castello di Arichi e della società Mestere e Sapori come una delle manifestazioni a forte richiamo turistico e quindi da segnalare agli automobilisti in transito verso Salerno attraverso chiaramente la radio.